L'Unimetal S.P.A., leader nel settore di coperture metalliche, latoneria e fotovoltaico da 7 anni a questa parte, molto attenta al settore coperture metalliche, da 7 anni, come dicevo prima, si è spinta anche il settore fotovoltaico, integrando le proprie coperture con dei moduli fotovoltaici in silicio amorfo. Oltre a questo tipo di soluzione, da un paio d'anni proponiamo coperture metalliche fatte ad hoc per l'integrazione dei moduli cristallini. Unimetal S.P.A. è molto attenta al mercato, soprattutto per quanto riguarda il discorso dell'industriale, quindi con materiali adatto per lo smaltimento dell'amianto, sostituzione delle coperture in Ethernet, con tutti i tipi di metalli, dall'alluminio alla lamiera, al rinzing, all'acciaio inox, rame e tutti quanti materiali adatti per le coperture anche di pregio. Negli ultimi anni abbiamo sviluppato anche materiali molto particolari, tipo il pannello sandwich curvo a raggio variabile, con anche applicato il modulo in silicio morfo tra gli unici in Italia ad utilizzare questo tipo di sistema. Le soluzioni Unimetal di copertura sposate al fotovoltaico a film sottile si integrano a perfezione nel nuovo conto energia, da poco firmato, in quanto vengono ritenute tecnologicamente avanzato, promuovendo un pacchetto unico sia da copertura che da fotovoltaico. Grazie per la visione!